Allora, buongiorno a tutti i sognatori di Mezzestate, subito un'iscrizione al canale di PinguinFootball e un mi piace a questo video perché oggi parliamo della cosa più bella, di una delle cose più belle che c'è nella vita e sto parlando dei sogni. Cosa sarebbe la vita senza i sogni? Adesso sto diventando un po', mi sto marzullizzando sono i sogni che aiutano a vivere la vita, che fai i sogni, ma cos'è sta roba ragazzi? I sogni, i sogni certo i sogni aiutano a vivere, le speranze, i sogni, le ambizioni sono un po' per me il sale della vita io senza sogno ho sempre il bisogno di avere dei desideri, di credere in qualcosa di irraggiungibile che devo raggiungere per avere stimoli nella vita, per migliorarmi ma di che cosa sto parlando esattamente? Sto parlando di una squadra da sogno che la Juventus starebbe costruendo per la prossima stagione Allora, al netto degli arrivi, di cui abbiamo già parlato tantissime volte arrivi ragazzi straordinari, l'anno scorso c'è arrivato Cristiano Ronaldo, lo voglio citare anche se è arrivato l'anno scorso quest'anno abbiamo ripreso Buffon come secondo portiere abbiamo preso Aaron Ramsey, trequartista dell'Arsenal tutto a fare del centrocampo rabbio gigante francese ma con la tecnica sopraffina e soprattutto abbiamo preso il giovanissimo, la giovanissima promessa il golden boy Matthijs de Ligt per il centro della difesa per sistemare la difesa bianconera, si spera, per i prossimi 15 anni o anche più Cosa manca? Cosa manca veramente per fare una squadra da sogno? una squadra stellare Allora, ci sono, si stanno rimbalzando due voci ragazzi due voci molto 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 di cui ho anche già parlato brevemente insomma c'è la voce Neymar di cui ho fatto già un video su cui ho fatto già un video ma è una voce che viene rilanciata quindi è vera, è vera c'è qualcosa Neymar sicuramente vuole lasciare il Paris Saint Germain e sicuramente si vorrebbe accasare in un'altra big europea certamente non andrà allo Stoccarda ecco, questo diciamo è poco ma sicuro le big europee sono quelle si contano sulla punta delle dita se poi vai a eliminazione vai a togliere squadre che magari hanno già acquistato in quei ruoli allora rimani con due o tre pretendenti e chiaramente la Juventus Football Club pare essere una di queste possibili pretendenti all'acquisto di Neymar Junior ragazzi sarebbe una cosa cioè avere Neymar e Ronaldo davanti con De Ligt dietro poi ai due andrebbe affiancato dipende poi dalle partenze magari da la scossa un altro attaccante Di Bala piuttosto che chi arriverà per lui insomma ragazzi si sta veramente pensando di fare una squadra stellare un dream team come quello del basket americano che andava agli olimpiadi e aveva tutti i migliori giocatori dell'NBA e vinceva tutte le partite senza gusto praticamente senza il minimo gusto stiamo puntando a fare questo probabilmente ragazzi questa storia di Neymar secondo me non so come andrà a finire non lo so io nel primo video che ho fatto un paio di giorni fa ho detto che non ci credevo adesso invece ci credo ci credo che lui sia offerto ma non ci credo che ancora che possa arrivare secondo me un acquisto del genere è ancora troppo fuori dalla portata dovrebbe veramente succedere qualcosa quindi oggi dovrebbero essere delle cessioni veramente importanti per consentire questa entrata perché ragazzi ricordiamo che Neymar Giulio in questo momento percepisce uno stipendio netto intorno ai 25 milioni di euro e insomma questi soldi da qualche parte devono uscire perché ne paghiamo 30 netti sono 60 lordi 58 lordi a Cristiano Ronaldo cioè capite ragazzi va bene tutto va bene la potenza di fuoco però la coperta quella e se tiri da una parte insomma devi mollare un po' dall'altra i soldi non crescono sugli alberi e tutti questi ragionamenti qua quindi il discorso Neymar secondo me si potrebbe aprire se alcune circostanze si dovessero verificare perché se si dovesse creare un'asta con le altre pretendenti che sembrano ad essere al momento Real Madrid e Bayern Monaco probabilmente Real Madrid potrebbe offrire di più o comunque garantire uno stipendio adeguato al giocatore per Neymar poter finire alla Juventus dovrebbe essere una congiunzione astrale di cose quindi lui avere una forte volontà di venire a Torino che non lo so quanto ce l'abbia magari una volontà anche di ridursi un filino l'ingaggio piuttosto che delle sponsorizzazioni piuttosto che delle cessioni veramente dolorose perché per poter andare a coprire un ingaggio del genere ci vorrebbero almeno due se non tre cessioni pesanti pesanti allora per le voci che sento ecco diciamo le voci che sento per Neymar per l'affare Neymar dovrebbe uscire di bala quindi se arriva Neymar esce di bala si 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 buttano degli altri soldi magari ci sarà anche qualche cessione minore per arrivare al costo del cartellino magari c'è un mio amico diceva guarda facciamo diciamo di bala bonucci diciamo di bala bonucci più 30 milioni prendiamo Neymar e gli diciamo il caro Neymar visto che tu ti rimanerà a Parigi non c'è nessuno che ti prende quindi da noi per un anno ti abbassi un po' l'ingaggio a 15 milioni poi l'anno prossimo noi ci togliamo Ronaldo magari va via e ti o succede qualche altra cosa e ti garantiamo un ingaggio maggiore parlando di fantacalcio questa è un'ipotesi che ci può anche stare l'altro sogno l'altro sogno di cui volevo parlare è il sogno Pogba è il sogno Pogba su cui anche il giro delle voci su Pogba c'è una voce diversa si parla di tre cessioni tre giocatori tre giocatori forti che dovrebbero uscire per far posto o comunque far la cassa che serve per andare a prendere il ritorno di Paul Pogba in bianco o nero questi giocatori sarebbero Joe Cancelo valutazione intorno ai 60 milioni Blaise Matuidi intorno credo ai 15-20 milioni e Douglas Costa Douglas Costa che può andare sui 70 fanno 70-60 130-150 si parla di quelle cifre lì la cifra è di 135 milioni di cui avevo già parlato ha aumentato un po' con le contropartite in giocatori si arriverebbe a una cifra vicino a 150 milioni ragazzi sono sogni stiamo sognando stiamo dicendo delle cose campate in aria giusto perché estate fa caldo e ci va il sole alla testa no 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 allora le due notizie sono vere entrambi è vero che Neymar vuole lasciare il Paris Saint Germain e si è proposto alle poche squadre che possono permetterselo ed è vero anche che la Juventus ha ha un interesse col Pogba sta cercando di capire come si può arrivare a questo giocatore certo per arrivare a questi grandissimi giocatori oltre a quelli che abbiamo già comprato bisognerà fare qualche cessione ci sarà qualche cessione dolorosa quindi non parlo delle cessioni minori di cui già sappiamo ma qualche big dovrà partire sono sempre quelli insomma ne abbiamo già parlato dove sono i candidati gli indiziati oltre ai Guain che secondo me va sicuro Guain non ha spazio si trova una sistemazione a Roma poi insomma i pezzi grossi da cui si può fare cassa sarebbero i vari Bonucci Canselo Di Bala da Glass Costa si ma tu dici puoi fare qualcosa insomma qualcun altro Pjanic Pjanic anche se pare che Pjanic rientri fortemente nei progetti di Sarri ma secondo me di fronte ad un'offerta anche perché c'era un flirt con il Paris Saint Germain tra il Paris Saint Germain e Pjanic se arrivasse quell'offerta lì ragazzi secondo me anche Pjanic può partire è il centrocampo tanto comunque si può riorganizzare in un altro modo perché le opzioni non mancherebbero specialmente se arrivasse il Polpo Pol Pogba Pogback ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate stiamo sognando o queste sono operazioni che si possono effettivamente realizzare e in tutto questo se arrivassero uno o entrambi questi due giocatori come si risolverebbe poi la situazione centravanti i Cardi ci sarebbe ancora un'opzione per i Cardi in Juventus fatemi sapere ci sentiamo presto ciao